I ragazzi, gli studenti vogliono scioperare contro la DAD, è giusto secondo lei questo sciopero? Cosa ne pensa? Io penso che gli studenti stiano indicando agli adulti il loro bisogno di scuola, intesa non solo come luogo di apprendimento, ma come luogo di relazione, e quindi che stiano esprimendo il loro bisogno di incontrare, comunicare con i loro coetanei, di condividere le esperienze, le esperienze soprattutto emotive, affettive e di quindi promuovere il più possibile la relazione. Certamente la situazione non ha una sola soluzione e non è facile, a cominciare dal problema dei trasporti certamente, ma occorre impegnarsi al massimo perché la scuola sia capace di tenere insieme il diritto all'istruzione e il diritto alla salute.